ciao sono luca manelli e in questo breve video voglio farti vedere come puoi andare a inserire una porta scorrevole esterna al mondo vado ad attivare lo strumento porta e apro la finestra impostazioni all'interno della libreria standard di archicad nella parte relativa alle porte hai la cartella porte scorrevoli quando la vai a selezionare nella parte bassa vedrai il contenuto della cartella ti avevo già parlato della porta scorrevole a scomparsa se fai scorrere il contenuto in fondo hai la porta scorrevole esterna io ora la vado a selezionare all'interno dei vari parametri ho la possibilità di andare a definire il dimensionamento larghezza altezza della porta possiamo scegliere la finitura dell'anta la finitura delle ante è identica a tutte quelle che hai a disposizione in tutte le porte compreso anche nella parte in fondo della possibilità di inserire un'anta personale una volta che hai definito le impostazioni per quanto riguarda la tipologia dell'anta ed eventualmente anche la tipologia della maniglia puoi confermare con ok e per quanto riguarda l'inserimento è identico a quello già visto per altre porte una volta che vai a fare il click archicad posiziona il foro con il movimento del cursore puoi scegliere da che parte posizionare l'anta e il verso di apertura una volta confermato all'interno della visualizzazione 3d potrai vedere l'anta se la vai ad aprire puoi vedere che scorre esternamente al muro e il foro nel muro non presenta delle finiture nel caso in cui vuoi avere una finitura per il muro puoi aprire nuovamente la finestra impostazioni dello strumento porta nel pannello settaggi porta scorrevole puoi andare a selezionare la visualizzazione dell'intelaiatura esterna e dell'intelaiatura interna con le varie caratteristiche disponibili una volta definite puoi confermare puoi vedere che il foro del muro presenterà l'intelaiatura per una miglior definizione del foro grazie a tutti